Siamo soddisfatti che la tangenziale e il Ministero abbiano accolto una richiesta assolutamente giusta che abbiamo fatto con forza, con determinazione, quindi è giusto così perché questo contribuisce da una parte a rendere più rapida la circolazione sulla tangenziale, dall'altra anche a dare un ristoro ai napoletani che all'improvviso sono stati attraversati da questa notizia molto negativa. Noi ieri abbiamo fatto una riunione importante con tangenziale, tangenziale sta facendo delle verifiche preliminari molto importanti e si è presa l'impegno che tra martedì e mercoledì ci farà sapere come è la situazione, quanto tempo ci vorrà per ritornare alla normalità, noi ci auguriamo che sia il più presto possibile perché il disagio che hanno procurato alla città è davvero notevole, la città sta vivendo, prima abbiamo avuto di stress sul tema dei rifiuti, questo della mobilità è un ulteriore stress significativo che grava sulla nostra città, quindi abbiamo chiesto a loro di fare presto, di fare bene, in modo efficace, di tenere costantemente informata la città e credo che anche la battaglia che abbiamo fatto per la gratuità del pedaggio sia stata una battaglia vinta dalla forza di di questa città.